Un cordiale saluto calcio, tennis e motori nel sommario della pagina sportiva. Iniziamo con il calcio e con la lucchese femminile che dopo la sosta forzata di domenica scorsa, domenica prossima tornerà in campo e sarà impegnata in un interessante derby. Anche nella C femminile è una stagione difficile e non dobbiamo spiegarvi perché. Prendete la lucchese che a Pavia il 23 gennaio scorso gioca la miglior partita del suo fin qui altalenante campionato, ma che poi si ritrova a fermarsi in gioco forza. Salta il derby con lo Spezia, causa i numerosi casi Covid nella squadra Ligure. Certo è che vista la bella prova sciorinata al Pietro Fortunati, coronata dal successo per 2-0 con reti di eletto e tata, in casa rossonera avrebbero preferito andare avanti. Ma tant'è in una stagione così complicata per tutti. Adesso però il ritorno è davvero dietro l'angolo. Si ripartirà domenica prossima ore 14.30 da recupero sul campo della Pistoiese, gara non disputata nella dodicesima giornata, il 9 gennaio, e pensate che di quel disgraziato turno si è giocata finora una sola partita. Il resto è stato spalmato fino a tutto marzo. Contro le arancioni la lucchese parte favorita, almeno sulla carta, visto che anche la classifica vede le rossonere al nono posto, mentre la Pistoiese è relegata in piena zona retrocessione, nonché reduce dalla sconfitta 0-2 di Solviate Olona. Rispetto alla partita di Pavia, la lucchese recupera il centro-autacco Benedetta Fenili, arrivata nel mercato di gennaio. Per il resto Tarantino si affiderà in modo robusto alla formazione tipo. Occhio però ai precedenti, il 21 settembre in Coppa Italia, la Pistoiese si impose per 3-2. Le reti della lucchese furono segnate da Capitan Moni e dalla Bengasi su rigore. Tra l'altro il match di Pistoia aprirà un vero e proprio tour de force per Moni e compagne, che il 9 febbraio giocheranno il recupero con lo Spezia, e il 13 riceveranno Real Meda nella prima di ritorno. Tre partite in sette giorni, con l'obiettivo di fare bottino pieno e risalire in classifica in zone più consone al valore di questa squadra. Turno infrasettimanale in Serie D, che vedeva impegnate, visto il rinvio di Ghiviborgo-Lentigione, Real Forte, Quercete e Seravezza. Real Forte ha vinto 2-0 con reti di Gigio Grassi e di Ciccio di Paola. 200 reti in carriera per Ciccio di Paola. La vittoria sul Borgo Sandonnino, mentre Seravezza è stato battuto 3-0 in casa dal Forte Ravenna. I gol nella ripresa di Prati e la doppietta di Campagna. Detto che Ghiviborgo-Lentigione è stata rinviata, vediamo i risultati della ventunesima giornata del turno infrasettimanale. Aglianese-Forlì 0-1, Alcione-Milano-Prato 0-3. Molte vittorie esterne. Athletic-Carpi-Sasso-Marconi 0-2, Correggese-Sanmaurese 0-2, Fanful-Latrizium 1-0, Ghiviborgo-Lentigione, come detto, rinviata, Mezzolara-Progresso 1-0, Real Forte-Querceta-Borgo-Sandonino 2-0, Rimini-Bagnolese 3-0, Seravezza-Ravenna 0-3. Questa è la classifica, Rimini 51-Ravenna 46-Lentigione 42-Mezzolara 35. Per le prime posizioni in coda troviamo, al di là del Seravezza con 25 punti, Real Forte 24, il Ghiviborgo, che ha una partita in meno con 18 punti, insieme al Borgo-Sandonino. Gli asterischi che vedete corrispondono alle partite che ogni squadra deve recuperare. Complessivamente, vi diciamo, mancano 8 partite. Ci sono 8 partite da recuperare. Il tennis, dopo aver superato in modo brillante le qualificazioni, Tatiana Pieri si è fermata agli ottavi di finale del torneo di Manacora, l'Accademia di Rafa Nadal, battuta in 3-7 dalla francese Elsa Jacquemont, che si è imposta a 7-5, 5-7-6-2. Molto combattuti i primi 2-7, mentre nel terzo ha nettamente prevalso la Transalpina. Area di Mondiale Endurance, siamo ai motori per Riccardo Pera, che fra poco più di un mese, 12-13 marzo, inizierà la nuova avventura ridata sul circuito di Sebring, in Florida. Gustose novità per il 22enne pilota di Marlia, che correrà con il team Gulf Racing. Pera avrà al suo fianco due piloti inglesi, Ben Barker e Mike Wainwright, il gentleman per un Mondiale 2022 che si profila di straordinario interesse. La macchina, l'avete vista bellissima in queste due foto, l'ivrea con i colori nero e arancio del team, sarà la numero 86 e, manco a dirlo, nutre chiare ambizioni di podio iridato. Chiudiamo con i motori e continuiamo nel nostro racconto a poco più di un mese dal 46esimo rally del Ciocco della Valle del Serchio, con gli ultimi dieci anni. Questa sera parliamo della doppietta di Gian Domenico Basso negli anni 2013 e 2014. A rally del Ciocco il 2013 e 2014 sono caratterizzati dalla doppietta di Gian Domenico Basso. Nel 2013 il pilota Veneto vince con la Peugeot 207 Super 2000. Basso non sbaglia un colpo e dimostra coi fatti di essere in quel momento il vero punto di riferimento sull'asfalto. Alle sue spalle Alessandro Perico, felice a metà, buono risultato del bergamasco, meno il distacco finale che certifica in maniera netta il dominio di Basso, soprattutto in condizione di asfalto bagnato. Ma la vera delusione è Umberto Scandola, è tutta la truppa scoda. Il veronese, gran favorito della vigilia, chiude solo terzo e non è mai realmente in gara per la vittoria. Nel 2014 Basso si ripete, 37esima edizione Basso d'Otta, stavolta vincono con l'inedita Ford Fiesta R5 alimentata a gas. Al secondo posto si classifica il campione italiano 2013, Umberto Scandola, navigato da Guido d'Amore con la Scoda Fabia Super 2000. Terzo posto per il pluricampione italiano Paolo Andreucci, che porta al debutto la nuova 208 T16 R5 della Peugeot. Il Garfagnino è autore di una gara non certo facile, in seguito a problemi di assetto sulla nuova vettura francese. Sfortunata, invece, la prova del messinese Andrea Nucita, che dopo i problemi tecnici avuti alla fine della prima tappa, recupera parte del tempo perso nelle prime prove di giornata, ma purtroppo si deve arrendere sugli ultimi chilometri della penultima prova speciale, in seguito ad un principio di incendio della propria 207. E dunque abbiamo rivisto il trionfo di Gian Domenico Basso, tra l'altro campione italiano in carica sotto la rocca ariostesca di Castelnuovo Garfagnana. Era il 2014. Vi ringrazio per averci seguito fin qui, dopo la pagina sportiva, il Tg prosegue con la terza ed ultima parte. Grazie a tutti.